. Pallanuoto femminile. Setterosa, caccia alla semifinale, Emolo e Gorlero all'assalto della Russia, ore 14.50. . Mondiale Budapest, quarti di finale meno Italia, Gorlero, Tabani, Garibotti, Queirolo, Radicchi, Aiello, Picozzzi, Bianconi, Emolo, Palmieri, Cotti, Dario, Lavi. . Importante pomeriggio per il setterosa delle imperiesi Giulia Gorlero e Giulia Emolo, che alle ore 14.50 scenderanno nella vasca di Budapest per affrontare la Russia, ci si gioca l'approdo alla semifinale mondiale. . La Russia arriva dall'impresa negli ottavi di finale, visto la vittoria di misura sull'Olanda. . L'Italia ha riposato un giorno in più e il Citticonti potrà contare su una squadra forte mentalmente e fisicamente dopo i precedenti successi nella prima fase contro Canada, Brasile e Cina. . Le due imperiesi Emolo e Gorlero vanno a caccia della gloria e dopo la conquista della medaglia olimpica a Rio l'anno scorso, hanno l'occasione di giocarsi almeno il podio anche al Mondiale in Ungheria. . Nell'ultimo confronto, proprio nella vasca di Rio per i giochi, il setterosa superò 12-9 le russe. Potete seguire il match tra Italia e Russia nella nostra web cronaca live su Riviera Sport. . . . . . .